buongiorno a tutti benvenuti oggi è una giornata molto importante una giornata alla quale ci siamo preparati in questi mesi e qualcuno anche diciamo così in tanti anni di lavoro e di studio oggi infatti la giornata internazionale delle persone con disabilità e abbiamo deciso di prepararci a questo giorno così importante attraverso un lavoro che oggi vi racconteremo che parte da lontano da diversi mesi di coordinamento di un gruppo di lavoro che oggi è composto da persone molto operative e concrete che hanno deciso di dare avvio però un percorso molto più articolato e a lungo termine da qui è nato quindi questa iniziativa che si chiama appunto lavoriamo insieme per l'accessibilità universale e che ha diciamo una si è presa l'impegno di una sfida molto ambiziosa prima di entrare però nel merito del progetto vorrei presentare le persone che oggi sono qui con me e che stanno lavorando appunto a questa iniziativa partirai da stefania di ronzo esperta e attivista proprio del tema della disabilità buongiorno stefania c'è con noi ci sono anche con noi due rappresentanti appunto della camera celeste darrando che è appunto in commissione affari sociali buongiorno celeste sta già lavorando quindi nell'esercizio delle sue funzioni e all'interno della presentazione di di questo progetto e ruggiero quarto commissione ambiente il nostro senatore in senato buongiorno ruggiero e ecco noi anche andrea venuto che è il delegato all'accessibilità universale di roma capitale buongiorno andrea ciao buongiorno e poi c'è con noi in una doppia veste da consigliere comunale ma anche da referente della funzione sharing la funzione condivisione della piattaforma russo marco piazza ciao enrique buongiorno a tutti ciao buongiorno marco io sono invece rica sabatini sono il facilitatore al coordinamento agli affari interni e ho pensato in qualche modo di eh dare avvia questo coordinamento molto importante che ha unito in una rete forte eh tutti una serie di componenti appunto del movimento 5 stelle questo progetto nasce diversi mesi fa quando appunto Stefania Doronzo che avete visto prima decide di invitarmi a un evento eh appunto in Puglia lei era candidata eh alle regionali sul tema della disabilità mi invita perché nella precedente esperienza da consigliera comunale avevo portato avanti una serie di progetti di iniziative e soprattutto un forte interesse per il ruolo dei disabiliti manager ci incontriamo in questo evento della possibilità di conoscere anche le tante persone che avete visto qui e lanciamo insieme una sfida cioè creare appunto un percorso molto importante che oggi in qualche modo è al suo primo passo il primo step ma che vedrà invece l'aggregazione di sempre più persone e decidiamo appunto di lavorare su più piani un piano nazionale con Celeste appunto Ruggero che oggi presenteranno una proposta eh molto importante ma di lavorare anche attraverso una rete la rete di tutti i consiglieri comunali del movimento 5 stelle grazie appunto a Marco Piazza referente di sharing che decide appunto di mettersi in questo modo a coordinare la possibilità di scrivere un atto che oggi verrà presentato in oltre 200 comuni d'Italia abbiamo visto l'ultimo aggiornamento sarebbero 200 oltre 280 eh i consiglieri comunali che hanno deciso di presentare questo atto ma andiamo nel merito appunto di eh di questo progetto e partirei appunto da Stefania Doronzo per eh che ha dato in qualche modo accesso la fiamma eh di questo percorso Stefania ti passo la parola. Grazie Ricca salve a tutti grazie Ricca per aver lanciato questa idea e grazie ai parlamentari di Camera e Senato Ruggero Quarto eh Celeste D'Arrando che hanno sposato la tua proposta grazie a Marco Piazza eh per il suo prezioso apporto eh con la presentazione della mozione in tutta Italia eh nei comuni e il prezioso apporto anche di Andrea Venuto eh in qualità di del delegato all'accessibilità universale del Comune di Roma. Io sono Stefania Doronzo, sono di Barletta della Puglia eh sono laureata in giurisprudenza, sono abilitata avvocato e da qualche mese dipendente del Ministero della Giustizia. Io come ha detto Enrico Sabatini sono qui perché tutto è nato da un mio convegno che ho fatto nella mia città allo scorso settembre in qualità di candidata al Consiglio regionale. Eh in questo convegno oltre eh al disability manager ehm abilitato che ci ha fatto toccare con mano come eh si può operare bene nella disabilità quando si hanno determinate competenze appunto avevo invitato Ricca in qualità di eh per la sua precedente esperienza eh quando era consigliera comunale che aveva presentato con i suoi colleghi eh la mozione su disability manager e eh Celeste Darrando e Ruggero IV. Ecco perché siamo siamo qui oggi perché passiamo dalle parole ai fatti dato che Enrico in quel convegno ci lancio la proposta del tavolo di confronto per un'iniziativa nazionale e io le sarò infinitamente grata. Eh diciamo che mh eh io mh nella mia vita sono ho avuto sempre un percorso abbastanza fortunato nonostante le mille difficoltà che non mi hanno mai intimorita né né tanto meno scoraggiata per cui eh ho sempre avuto questa predisposizione di voler dare quello che ho ricevuto agli altri per cui eh eh ho sempre cercato di dare voce alle istanze dei più bisognosi ecco perché nella mia campagna elettorale eh mi occupa mi ho deciso di occuparmi di disabilità un tema che purtroppo è relegato eh le ultime pagine spesso e volentieri eh dei politici ehm e invece ehm nel con lo slogan che ho usato nella campagna elettorale eh quello un richiamo a guardare oltre eh che si collegava proprio al titolo del mio convenio che era il disability manager un nuovo approccio alla disabilità ehm il richiamo è proprio quello di di guardare eh e lasciare i vecchi schemi tradizionali per lo più assistenziali eh sulle soluzioni da adottare per le problematiche afferenti alla disabilità e passare ad un approccio nuovo eh ecco perché eh è tempo anche di andare oltre e di cercare di progettare eh il come e dove vogliamo andare perché eh fino adesso si è andato eh con con azioni sporadiche ehm tra l'altro nel 2009 l'Italia ehm con la legge 18 ha ratificato la convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dei disabili una convenzione per me bellissima perché contiene tutto quello eh tutti i diritti che eh sono afferenti ai disabili la libera circolazione, il diritto all'autodeterminazione, la vita indipendente e il diritto all'accessibilità dei trasporti, della mobilità e quanto. E queste eh prescrizioni eh della convenzione eh ora diventano diritti immediatamente esigibili ecco perché eh oddio siamo già in ritardo però l'auspicio è quello che possiamo recuperare il tempo perduto ecco perché è necessario veramente guardare oltre andare oltre quello che abbiamo fatto o non abbiamo fatto e cercare di recuperare il tempo perduto perché eh qualora non attivassimo attuassimo la la convenzione eh nell'Italia potrebbe essere passibile anche di sanzioni. Eh io invito tutti coloro in ascolto che ringrazio anche a leggervi nel tempo libero questo eh questi cinquanta articoli della convenzione perché come qualcuno li ha definiti eh forse sono eh il primo trattato dei diritti umani del terzo millennio eh eh e questa espressione a me piace tantissimo perché ehm eh quello che in esse è sancito ci dà speranza nel senso che se abbiamo ancora la forza di scrivere delle pagine eh con questo grande significato con tanta cura e sensibilità vuol dire che siamo sulla strada giusta però dobbiamo andare oltre e mettere in pratica quello che c'è scritto eh tra l'altro eh eh occuparsi dell'accessibilità significa tantissime cose ecco perché bisogna sapere dove si vuole andare ehm perché abbattimento per esempio delle barriere ci sono tantissime barriere a partire da quelle eh architettoniche che forse sono le più semplici da rimuovere ma poi ci sono quelle culturali eh se eh se ci fermassimo a pensare eh ci renderemo davvero conto ognuno di noi di quanto sappiamo poco sulla disabilità e le sue problematiche e eh quanto dobbiamo lavorare per eh sfatare i pregiudizi ai luoghi comuni eh poi ci sono le barriere sensoriali eh io vi do un dato che è particolarmente vicino a me visto che sono non vedente eh l'informazione che noi riceviamo eh passa per l'ottanta per cento dalle immagini e pensate quanto noi potremmo essere penalizzati in questo eh se tale informazione non venisse eh veicolata eh con le adeguate tecnologie assistive eh con gli adeguati metodi poi ci sono anche le barriere economiche perché spesso e volentieri la disabilità costa e poi costano anche i servizi ai quali bisogna accedere quindi eh bisogna abbattere tutte queste barriere e per farlo veramente bisogna andare oltre eh quello che abbiamo pensato fino adesso eh perché i benefici economici eh sono importanti ma non possono e non devono essere i soli eh le sole soluzioni alle problematiche sulla disabilità eh tra l'altro vorrei in questo mare magnum di questa disamina che ho fatto ci sono anche tantissime esperienze positive in Italia che vanno citate per esempio la Puglia è stata una regione capofiglia dei progetti di vita indipendente li ha attuata per tutte le categorie motorie eh i disabili motori sensoriali e psichici eh sin dal 2016 si è recentemente dotata di una legge sulla vita indipendente come anche le marche oppure la la Lombardia ha inserito negli standard professionali la figura del disability manager tantissime città si sono avvalse a vario titolo del facilitatore all'accessibilità però eh va detto che appunto le 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 iniziative sono tante sporadiche e eh nascono dalla discrezionalità delle persone eh delle delle degli amministratori quindi eh laddove la fa da padrone la la discrezionalità ovviamente regna sovrana anche la confusione ecco perché è necessario che a livello nazionale si dettino le linee guida per veramente andare oltre e cercare di far remare eh nella stessa direzione tutta l'Italia io spero che a questo gruppo si possano aggiungere tanti altri che vogliano collaborare con noi e vi ringrazio tutti. Grazie mille Stefania per eh Stefania per eh come tutta me e eh ci auguriamo tutti e infatti lavoreremo per ampliare questo gruppo che è già molto nutrito no perché come già dicevamo a già tanti consiglieri comunali ma anche attivisti persone interessate esperti il nostro obiettivo oggi non è eh raggiungere oggi non è un traguardo ma è un nuovo inizio ed è un inizio importante eh che prevede appunto come dicevamo quest'azione a livello nazionale che verrà portata avanti eh appunto da da Ruggero e da Celeste. Darei però la parola eh prima appunto a Ruggero quarto che è come abbiamo già detto e come abbiamo già detto ci racconterai a raccontare appunto i contenuti di questo atto che voi presenterete appunto oggi eh a livello nazionale. Grazie. Buongiorno a tutti quanti eh sono Ruggero quarto portavoce al Senato del Movimento Cinque Stelle. Sono felice davvero di essere stato coinvolto in un'importante iniziativa che riguarda il delicato e complesso mondo della disabilità. Sono orgoglioso che ciò sia avvenuto secondo un percorso che rappresenta uno dei punti cardine del Movimento Cinque Stelle. Una proposta parte dal basso e viene veicolata nelle istituzioni dei portavoci di ogni livello che interagiscono come rete solidale. Abbiamo quindi costituito un gruppo di lavoro multiforme e predisposto anche una mozione sull'accessibilità universale sia a livello parlamentare che in parte tratterò e sia a livello comunale che sarà presentata successivamente da Marco Piazza. Un obiettivo concreto della mozione parlamentare è quella di impegnare il governo a distituire la figura del disability manager a livello nazionale attraverso una normativa coerente e uniforme che ne prevede l'inserimento negli enti pubblici ma anche in quelli privati attraverso opportune forme di incendivazione. Il disability manager è una figura con elevata e comprovata professionalità nel campo della disabilità. Favorisce in collaborazione con le altre competenze della struttura di cui fa parte ovviamente l'adozione di politiche finalizzate a garantire l'autonomia e l'inclusione delle persone con disabilità nel rispetto dei già citati principi da Stefania definiti dalla Convenzione delle Nazioni Unite del 2006 sui diritti delle persone con disabilità. Il disability manager aziendale promuove e guida la programmazione, il reclutamento, l'inserimento, la formazione, il rientro e la conservazione del rapporto di lavoro della persona con disabilità. Rimuove gli ostacoli organizzativi, ambientali e comportamentali che limitano l'integrazione. Valorizza l'autonomia e la professionalità del lavoratore conciliando le esigenze di vita, di cura e di lavoro. Trasforma insomma un obbligo per l'azienda in risorsa. È l'oramai indifferibile cambio di paradigma da disabile a diversamente abile. Il disability manager degli enti territoriali promuove i diritti delle persone con disabilità garantendo l'accessibilità di tutti i cittadini a tutti i servizi. L'accessibilità universale, nessuno deve essere escluso, nessuno deve rimanere indietro. Alcune lo devo alle amministrazioni comunali, si sono a basse di questa figura, ma manca una normativa nazionale che definisca in modo chiaro questa figura. Non c'è nemmeno un albo professionale, la formazione è demandata a corsi di perfezionamento e master universitari disomogene e non sempre accessibili a tutti i potenziali interessati. In Italia il disability manager fece la sua apparizione nel 2009, anno in cui, come ha detto Stefania, viene approvata la convenzione ONU. Nel libro bianco su accessibilità in mobilità urbana, a cura del tavolo tecnico istituito tra Comune di Parma e Ministero del Lavoro della Salute e delle politiche sociali dell'epoca, successivamente è stata riproposta nell'ambito dell'adozione del programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'indegrazione delle persone con disabilità sia nel 2013 che nel 2017, ma poi non se ne è fatto più nulla. Quindi noi oggi siamo qui per cercare di avviare un percorso che possa colmare questo vuoto legislativo. La mozione contiene un'altra richiesta di impegno di cui ora tra poco vi parlerà Celeste Darrando, ma volevo far presente che prima di depositarla sia alla Camera che al Senato verrà sottoposta all'associazione di categoria per suggerimenti e osservazioni. Concludo. La disabilità può generare diseguaglianza e sono convinto che una democrazia può definirsi compiuta e giusta allorché tutti possano godere in egual modo dei diritti umani e accedere compiutamente ai servizi erogati alla comunità. Una democrazia può definirsi evoluta, inclusiva, e solidale, allorché sia pervasa dalla cultura dell'accoglienza, che non veda nella diversità di età, genere, salute, cultura, dei potenziali ostacoli o fardelli, ma delle opportunità. Prima ancora di abbattere le barriere fisiche, dobbiamo rimuovere quelle mentali. Ricordo che il secondo periodo dell'articolo 3 della nostra amata Costituzione, uno davvero dei più belli e significativi, cita il compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che limitando di fatto le libertà e l'uguaglianza dei cittadini, imbediscono il pieno sviluppo della persona umana. Se sono qui in veste di portavucia al Senato, oggi lo devo a questo articolo. Se siamo tutti qui adesso, vuol dire che in questo articolo ci crediamo e ci battiamo per la sua attuazione. Grazie. Grazie, Ruggero. Ci riportano un po' all'importanza anche di assumere la responsabilità di lavorare sull'accessibilità universale, di far sì che ci siano persone competenti. Come tu sottolineavi, il disability manager richiede anche delle competenze molto importanti, trasversali, che devono essere anche riconosciute. Ma nella vostra mozione c'è anche un altro aspetto molto importante che chiedo appunto Celeste di descrivere nel dettaglio. Ti passo la parola. Grazie a tutti. Io sono ovviamente in questo momento alla Camera perché stiamo votando, ma ci tenevo a essere presente a questo evento. Ringrazio tutte le persone che mi stanno affiancando in questo viaggio. In primis Enrica che ha avuto questa idea e Stefania che ci ha invitato durante la campagna, Andrea Venuto, Marco Piazza, Ruggero e tanti altri che stanno lavorando sui territori. Quello che noi stiamo facendo è un percorso, non c'è nulla di deciso, questa è la cosa secondo me importante che deve passare. Abbiamo voluto fare un atto, un primo passo a cui poi dare un seguito, un seguito che sia condiviso tra tutti i livelli istituzionali del movimento, quindi col passaggio all'interno del nostro gruppo parlamentare, coinvolgendo tutti i nostri colleghi sia interni ma anche di tutte le altre forze politiche. Un passaggio con le associazioni, come diceva appunto Ruggero, perché è importante avere anche un confronto con chi questa realtà la vive tutti i giorni. Io non sono una persona con disabilità, ho una piccola disabilità che non sento dall'orecchio sinistro per fare un esempio, però non è la cosa disabilità anche molto più grave, molto più complessa. E una frase che ha detto Stefania mi è rimasta impressa, la questione di chi non vede, delle persone non vedenti. Quando si studia ad esempio psicologia si parla di quanto il sistema visivo sia importante anche per l'apprendimento, per la memoria, per quanto sia importante anche per lo sviluppo della propria persona. Ecco, tutte queste persone che hanno abilità diverse dalle nostre ma che devono essere comprese, devono essere coinvolte in quello che sono i processi decisionali e devono essere parte integrante della nostra società, per fare questo noi dobbiamo lavorare anche con azioni concrete. L'atto che noi abbiamo elaborato, che è una bozza perché poi verrà, come dicevo prima, condivisa con chi si occupa di questi temi e con tutti i gruppi parlamentari, ha anche un altro impegno importante e fondamentale che nasce anche dal suggerimento di Andrea Venuto, il Disability Manager di Roma Capitale. Ed è un'agenzia, un'ente, un'istituzione che non è in realtà un'istituzione propriamente detta, ma è un luogo dove all'interno noi possiamo coinvolgere tutte quelle persone che già lavorano nella pubblica amministrazione, che hanno sviluppato negli anni delle competenze e delle capacità nell'ambito della disabilità e che possono trasferire quel loro sapere a tutte le pubbliche amministrazioni sui territori. I nostri territori, i nostri comuni, i nostri consiglieri comunali hanno bisogno di avere formazione, di ricevere informazioni per consentire di dare completamente mandato e atto di quello che loro stanno portando avanti. Abbiamo fatto qualche settimana fa un incontro con i nostri consiglieri comunali ed è emerso chiaramente quanto ci sia ancora da fare sulle varie architettoniche, ma non solo. Ci ripetiamo un po' forse in questa nostra diretta, ma credo che ripetere aiuta anche a metabolizzare alcuni concetti. Viviamo ancora in una società dove pensiamo che la condizione di disabilità o di donna sia una condizione di discriminazione. Non può essere più così, perché la condizione di una persona non può determinare la possibilità che può avere quella stessa persona di svilupparsi nella società, nella propria vita personale, nella propria vita di tutti i giorni. È un tema a cui tengo moltissimo, è anche la discriminazione delle donne con disabilità, perché loro subiscono una doppia discriminazione per essere donne e per essere appunto con una disabilità. Ecco, perché creare questa agenzia o prevedere questo ente? Proprio perché abbiamo necessità che tutti quanti vanno a mettere non solo le varie architettoniche, ma anche tutte le altre varie. Altro principio su cui si basa questa mozione è che non è solo il trasporto, l'accesso alla pubblica amministrazione. In molti comuni ancora non c'è la possibilità per le persone con disabilità di accedere liberamente ai servizi della pubblica amministrazione, ma anche la cultura, eventi culturali accessibili universalmente a chiunque. Così come la scuola, così come il lavoro, tutte le sfere della vita di una persona devono assolutamente essere accessibili in modo universale. Io parlerei per ore di questo tema perché noi ci fossilizziamo a contrapporci l'uno contro l'altro. In realtà siamo tutti uniti perché tutti abbiamo il diritto di vivere una vita dignitosa, abbiamo il diritto di poter avere le stesse opportunità. Spesso sento parlare di pari opportunità, ma che cosa significa pari opportunità? Significa avere la stessa possibilità come l'altro di poter accedere e di poter svilupparsi, di poter fare il lavoro che si desidera il più possibile, di poter studiare, di poter usufruire dei servizi delle persone. Allora, sì, Celesti, abbiamo qualche problema con il tuo collegamento perché ovviamente stai, come hai detto tu, lavorando e alla camera non riusciamo a collegarci meglio. Ti senti? Prova un attimo di nuovo, proviamo. No, purtroppo non riusciamo. Ti ho perso per un attimo. Dopo ti comunicheranno, insomma, di cercare un po' di risolvere la diretta. Giustamente stai cercando i due aspetti. Allora, hai nominato tu stessa Andrea Venuto, delegata all'Accessibilità Universale di Roma Capitano. Andrea, adesso cercheremo in modo di capire se diciamo a migliorarlo. Dicevo allora, Andrea Venuto è delegato all'Accessibilità Universale di Roma Capitano. Abbiamo anche in queste settimane di lavoro, ci siamo resi capiti di quanto sia importante il collegamento con il territorio, con i comuni. Tu vivi quotidianamente la difficoltà comunque di dover rendere attuabili anche, no? Tante indicazioni, tante volontà politiche che poi si scontrovano con una complessità enorme sul territorio, appunto. Cioè, com'è applicarlo all'interno di una città? Si parlava della figura del disability manager e delle enormi incompetenze che deve avere. Volevamo appunto il tuo contributo che ci stai aiutando come esperto in questo percorso e anche nella formazione dei consiglieri comunali che, come diceva Solesca, abbiamo incontrato diversi giorni fa, perché è un tema che richiede competenza ma anche un tempo stesso concretezza. Ti passo la parola. Sì, ciao Erika. Allora, beh, io direi che ce l'abbiamo fatta e abbiamo cominciato un percorso importante. Oggi è una giornata importante, lo sappiamo sia noi addetti ai lavori, ma lo sanno anche quasi 5 milioni di persone, di cittadini italiani con disabilità. È una giornata internazionale delle persone con disabilità. Abbiamo scelto volutamente questo giorno proprio per partire con questo percorso che inizia con una condivisione, ma vuole arrivare ad un risultato concreto. C'è una frase che io utilizzerei per sottolineare questa volontà e questa voglia che abbiamo come Movimento 5 Stelle adesso, ma speriamo condiviso da più forze politiche e associazioni possibili, che è quella di dire che l'accessibilità non può più essere un'opzione, deve essere un diritto. Troppo spesso sono solo parole, ci sono cose che, come hai detto te, nei territori, io lavoro e vivo dentro Roma Capitale, che è una città che da 2000 anni non è accessibile. L'abbiamo migliorato e dopo avremo una sorpresa che ci racconterà cosa sta succedendo su Roma Capitale. Però ti dicevo, da questa giornata deve partire questa frase, questa voglia di trasformare l'accessibilità in un diritto esigibile. Per essere un diritto esigibile servono delle regole, servono delle legge. E' per questo che insieme ai parlamentari, ringrazio Celeste e Ruggero, che si stanno facendo proattivi, portavoce, cercando di portare in tutte le stanze delle istituzioni questa necessità, si porta con un atto. Vogliamo portare questa mozione e impegnare il governo a lavorare su dei temi specifici che ci sono stati descritti prima, agli disabiliti manager, l'accessibilità universale che viene coordinata finalmente a livello centrale da parte di un'agenzia, da parte di una struttura per codificare, ecco grazie a questo primo atto, probabilmente riusciremo a muovere qualcosa. Vedi, io spesso lo dico, parafrasando e ripetendo una frase alle persone con disabilità, non sono un mondo a parte, sono una parte del mondo e per questo bisogna creare un ambiente fruibile per tutti, indipendentemente dalla propria condizione, bisogna imparare, bisogna cominciare a ragionare e progettare secondo l'universo al design, come dicono quelli bravi, cioè devo creare un ambiente che non crea indiscriminazione. A me piace dirlo sempre, si opera sull'ambiente, non si opera sulla disabilità, si lavora con le persone, anche qui parola molto importante, dobbiamo parlare di persone con disabilità, non di disabilità. Questo passaggio da un sostantivo aggettivo che è stato introdotto dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, che è stata citata prima, che ormai è superato abbondantemente i dieci anni, ci ha insegnato ad appensare la qualità di una persona, la condizione di una persona, indipendentemente da qual è il suo stato medico, la sua salute, la persona è al centro di tutto. Dobbiamo approfittare di questa opportunità, altra parola chiave, opportunità. Il Movimento 5 Stelle è basato su questa parola chiave, se noi siamo qui a parlare di questi temi e di altri temi è perché c'è stata data l'opportunità di fare. Però adesso non basta, bisogna passare ai fatti concreti. Presentare questa mozione è un fatto concreto. Vediamo dove arriveremo. Sono curioso, fiducioso e sicuro che potremo arrivare lontano perché stiamo veramente ponendo le basi finalmente per il rispetto di quello che è l'articolo 3 della nostra Costituzione. L'ha detto prima il nostro senatore Ruggero, che ha chiamato a me, e quello è l'articolo fondamentale. Lì c'è scritto tutto. La parità di diritti e lo Stato si deve impegnare per rimuovere tutti gli ostacoli per l'esercizio dei propri diritti. E cos'è rimuovere gli ostacoli? Rimuovere gli ostacoli significa creare una società accessibile. E questo è il segreto semplice ma che probabilmente ci porterà finalmente a vivere in un mondo migliore, lo diciamo sempre. Dove vive bene una persona con disabilità, vivono bene tutti. E allora perché non farlo? Grazie mille Andrea. C'è una frase che tu hai detto un po' di tempo fa quando abbiamo fatto questo incontro con i consiglieri comunali che è pensare accessibile, immaginare di disegnare anche le nostre città con l'idea di accessibilità universale come base, lo ribadivi anche adesso. Ed è per questo anche che abbiamo voluto creare questa rete che collega l'azione nazionale, quindi attraverso i nostri parlamentari ma anche un'azione locale molto forte perché la possibilità di fare rete che noi abbiamo, come movimento noi nasciamo e siamo appunto una rete e abbiamo deciso di lavorare anche a livello comunale. Marco Piazza che è come dicevo consigliere comunale e referente di sharing si è preso in qualche modo la responsabilità come fa tantissime volte di coordinare e portare avanti questo progetto. Abbiamo incontrato centinaia di consiglieri comunali, oltre come dicevamo 280 hanno già diritto all'iniziativa e oggi con l'hashtag nessuno escluso presenteranno in tutti i comuni questa mozione che è stata da te elaborata in una forma di bozza appunto da Marco e che ognuno però andrà a personalizzare, a declinare sul proprio territorio a seconda appunto delle esenze. Mi piace una frase anche di Marco che ha scritto in un post un avanzamento culturale valoriale sul tema dell'accessibilità universale. Credo che questo sia uno un po' degli obiettivi e dei focus che noi ci siamo dati anche in questo lungo percorso che faremo insieme e che come dicevano in molti coinvolgerà cittadini, attivisti, consiglieri comunali, anche consiglieri regionali e associazioni. Ma lascio adesso la parola a Marco che ci illustrerà brevemente quali sono le richieste di questa mozione che verrà come ho detto presentata in oltre 200 anni. Ti passo la parola Marco. Sì, grazie, grazie Enrico e buongiorno a tutti. Come dicevi giustamente te, con quest'atto cerchiamo di portare capillarmente in tutti i comuni un concetto, ovvero superare l'idea che abbattere le barriere fisiche della città sia l'unico modo per una visione della città inclusiva e universale, ma è necessario costruire invece delle modalità che favoriscano l'inclusione di tutte le persone, come sottolineava Andrea, che la vivano e la usano. Quindi una città che vuole fare qualcosa di pratico, una mozione che diciamo che vuole fare certamente qualcosa di pratico, ma vuole anche stimolare, Enrica, come dicevi, un dibattito per un avanzamento culturale e valoriale, lo ribadisco, in tutti i settori dell'amministrazione, perché prima di tutto dobbiamo avere consapevolezza e competenze, altrimenti i piani che proponiamo, che chiediamo, resteranno soltanto sulla carta un esercizio di stile, quindi bisogna crederci, bisogna capirlo, bisogna assumerlo dentro di sé, per questo è importante la discussione e l'aspetto culturale che questa mozione vuole portare avanti insieme alle richieste pratiche. Certamente la mozione riguarda le barriere materiali o immateriali, ma riguarda quindi le persone con una qualche forma di disabilità, ma mi piace sottolineare, e questo portatelo nei vostri consigli comunali come argomento di discussione, che stiamo parlando di tutti i cittadini, degli anziani, dei bambini, delle famiglie con i passeggini, di persone che magari affrontano una disabilità temporanea, quindi una città accessibile, una città più vivibile e più godibile per tutti, e questo è un primo punto, ma è anche una città che eliminando le barriere permette a tutti di esprimersi, permette a tutti di arricchire, di contribuire alla comunità, quindi è una comunità che cresce, che si arricchisce, che tiene conto di tutte le diversità presenti, e quindi è un ulteriore fattore importante per una città. Ma ancora un'altra cosa che potete portare nelle discussioni quando presentate questa mozione è il fatto che permettere a tutti i cittadini di essere autonomi, di lavorare, vuol dire fare a tutti gli effetti un welfare attivo, che è molto più efficace per le persone ed è molto più efficiente per le risorse del comune. Adesso siamo quasi tutti in fase di bilancio, i soldi sono un problema per tutti, il welfare in questo momento è una delle voci più importanti dei bilanci. Ecco, promuovere una città accessibile vuol dire rendere le persone autonome e quindi meno bisognose di supporto e che tra l'altro anche più felici perché possono esprimersi e quindi è più efficace da una parte e più efficiente per le risorse. Terzo punto che potete portare a sostegno nella discussione. Ora, la mozione che trovate su sharing è una mozione piuttosto basilare, con le richieste veramente base, pratiche, perché qui vedete la pagina, vedete adesso la pagina del sito, perché abbiamo visto nell'incontro che abbiamo fatto, che ricordava anche Celeste prima, con i consiglieri comunali, con tanti consiglieri comunali, abbiamo visto che purtroppo è constatato che generalmente la situazione sui territori è piuttosto indietro su questi temi. Per questo trovate richieste base. Partiamo quindi dalla richiesta dei PEBA, i piani per l'eliminazione delle barriere architettoniche, che è sono obbligatori già dal 1987, essendo stati introdotti l'anno prima con la legge 41. Quindi richiesta basilare che dovrebbe già essere scontata, ma purtroppo molti comuni ne sono sprovvisti. Quindi partiamo da lì. La mozione la potete scaricare, è un PDF che si può copiare e incollare, quindi la potete personalizzare per il vostro comune. Brevemente parte da delle premesse piuttosto ampie, così che vi diamo anche la possibilità di supportare, di avere cognizione per supportarla nella discussione, poi potete sfoltirle se ritenete. Citiamo la Costituzione, ovviamente la Convenzione sui diritti delle persone con disabilità delle Nazioni Unite del 2006, di cui bene vi ha parlato prima Stefania. L'atto europeo sull'accessibilità per il Parlamento europeo ha approvato nel 2019 per garantire il miglior modo l'accessibilità prevista dalla Convenzione ONU del 2006. Poi parliamo un po' della figura dei disability manager, di cui vi ha parlato bene Ruggero, su cui c'è ancora tanto da fare, però insomma qualcosa c'è e quindi ve la citiamo nelle premesse. E poi parliamo della legislazione nazionale in merito ai PEVA. Ecco, nella parte dispositiva dell'atto invece, anche questa la potete personalizzare. Come dicevo, le richieste sono piuttosto base. Si parte, ma direi che riguardano molto i comuni. Richiedono l'adozione dei PEVA, qualora il comune appunto non li avesse. Se invece già lo avete, allora verificate e sollecitate che siano finanziati, perché spesso rimangono solo sulla carta. Coinvolgete i cittadini, le associazioni, le persone per arricchirli questi piani, arricchirli e andate così a mappare tutte le barriere, ripeto, materiali e immateriali che possono ancora esistere e non essere inclusi in questi PEVA. E poi dotatevi, se il vostro comune ancora non ce l'ha, della figura del disability manager che oggi può essere nominata dal sindaco. Poi sicuramente si può fare di meglio come la mozione nazionale di prima ci hanno spiegato, Ruggero in particolare. Ecco, e poi cercate di adottare, questa è un'altra richiesta esplicita della mozione, un cambio di mentalità, quindi conformando ogni azione, deve essere trasversale, ogni servizio, comunicazione, evento, all'accessibilità universale nel comune. E questo ovviamente bisogna che sia, diciamo, fatto proprio da tutti i settori del comune. Se poi il vostro comune fosse già virtuoso, perché no, per fortuna ce ne sono, oltre ai PEBA, magari ha già i PEBA, verificate che siano stati estesi i PEBA con i piani per l'accessibilità urbana che estendono i PEBA già dal 92. Se poi volete spingervi ancora oltre, potreste chiedere di coprogettare con la città un piano per l'inclusione universale che va oltre i PEBA addirittura, un PU, che include i PEBA, un unico strumento, però coordina tutto trasversalmente. Lavori pubblici, urbanistica, mobilità, commercio, cultura, welfare, non c'è settore che non sia coinvolto da questa cosa. Poi addirittura, se siete in un comune molto virtuoso, potreste persino chiedere che il vostro comune partecipi, perché no, al premio europeo per le città cessibili, che quest'anno è stato, diciamo, vinto da una città svedese, ma ha visto una menzione d'onore speciale per la città di Firenze, quindi anche una città italiana. Quindi, perché no, chiedete anche questo se il vostro comune fosse particolarmente virtuoso, perché è un modo di partecipare a questo concorso che aumenta la consapevolezza e il coinvolgimento di tutti i settori. Si conclude la mozione, concludo anche il mio intervento, agganciando e sostenendo il grande lavoro che Celeste, Ruggero, stanno facendo insieme ad Andrea, Stefania, di cui vi hanno parlato, e quindi con un invito al governo per sostenere l'implementazione di pratica sul territorio dell'accessibilità universale. Spesso abbiamo bisogno di competenze, soprattutto nei comuni piccoli, i consiglieri comunali, ma anche i tecnici hanno bisogno di competenze su questa materia. Quell'agenzia di cui si parlava Andrea e che è stata pensata, potrebbe essere un buon punto di partenza. E anche il disability manager, ecco. Quindi si aggancia anche e sostiene il lavoro che i nostri portavoce nazionali stanno facendo in Parlamento. Scaricate l'atto quindi da sharing, personalizzatelo, presentatelo, mandate un comunicato stampa e concretizzeremo così un grande lavoro di squadra coordinato e sinergico grazie a sharing. Buon lavoro e buona emozione. Grazie Marco. Allora volevo, se possibile, far rivedere la schermata appunto di sharing che prima stavamo, diciamo, era comparsa un po' diciamo in condivisione sullo schermo. Perché? Perché, come diceva Marco, lui è referente appunto della funzione sharing di Rousseau, è possibile, diciamo, la seconda schermata dove si vede appunto la mozione, quella... esatto. Proprio su sharing di Rousseau tu hai caricato una mozione, quindi una bozza di mozione, come possiamo vedere con la sintesi, la descrizione e leggiamo infatti il numero di visualizzazioni, il numero di scaricamenti download oltre 259 e anche la possibilità appunto di commentarlo. Il lavoro che noi abbiamo fatto con tutti i consiglieri comunali è stato quello di incontrarci in una videoconferenza dove abbiamo elaborato un po' insieme, no, anche l'indirizzo di questa mozione, abbiamo fatto anche un po' un'analisi delle varie, come sottolineavi tu, delle diverse situazioni in cui i vari comuni si trovano, c'è chi ha avviato il PEBA, chi non ha avviato i fondi, chi ha istituito il disability manager, chi ha fatto la richiesta. Quindi il nostro obiettivo è di fare un lavoro di rete sinergico e collettivo in cui tutti andiamo verso la stessa direzione e grazie appunto a questo strumento c'è la possibilità di continuare il confronto e il dibattito intervallando ovviamente con tutti gli altri appuntamenti che porteremo avanti. Questo ruolo di condivisione è molto importante ma soprattutto è molto importante il fatto di fare rete, quindi di muoverci come abbiamo detto più volte a livello nazionale, a livello comunale, ci muoveremo anche a livello regionale, coinvolgeremo le associazioni ma coinvolgeremo anche tutti i sindaci. E proprio parlando di sindaci oggi abbiamo una bellissima sorpresa di una persona che ha deciso di mandarci un video, sarebbe voluta essere qui ma ovviamente per le tante responsabilità e anche impegni che ha, aveva diciamo avuto difficoltà ad essere fisicamente presente o anzi digitalmente presente, ci ha mandato un video che vediamo insieme. Oggi è la giornata internazionale delle persone con disabilità, un tema su cui è necessario riflettere. È fondamentale intraprendere un percorso di collaborazione che coinvolga tutte le forze politiche e le realtà che si occupano di disabilità. Dobbiamo fare rete, rendere una città più accessibile non vuol dire soltanto abbattere le barriere architettoniche e fisiche ma soprattutto vuol dire abbattere le barriere mentali. Dobbiamo tutti imparare ad avvicinarci a questo tema con maggiore consapevolezza. Per esempio, proprio recentemente abbiamo attivato un corso di formazione sulla disabilità per i dipendenti capitolini. L'obiettivo è quello di ampliare le loro competenze, quando ad esempio si tratta di accogliere cittadini con disabilità negli uffici comunali oppure di interagire con colleghi che si trovano in una condizione di disabilità temporanea o permanente. In questi casi è essenziale sensibilizzare sul tema, anche per evitare i comportamenti scorretti. Mi riferisco ad esempio a quello che è accaduto a Roma. Solo nel 2020, pensate, la polizia locale ha effettuato oltre 14.000 multe per sosta vietata. Si trattava di macchine che, senza averne titolo, erano parcheggiate nei posti auto riservati alle persone con disabilità. E voglio dare un altro numero, 100. Sono i pass per disabili che quest'anno sono stati ritirati perché contraffatti o scaduti. Occupare un posto auto oppure utilizzare permessi falsi, scaduti o assegnati a persone decedute è indecente. Sono comportamenti che devono essere arginati. Possiamo farlo da una parte con controlli sempre più stringenti della polizia locale, dall'altra con una forte azione di sensibilizzazione e con un lavoro portato avanti in modo sinergico. Rendere una città più accessibile e inclusiva è una priorità. Ogni cittadino con o senza disabilità dovrebbe avere la possibilità di muoversi per la città, di entrare e uscire da negozi, uffici edifici senza problemi. A Roma per questo abbiamo investito 2 milioni di euro per interventi urgenti per abbattere le barriere architettoniche in strade e piazze della città. Per esempio nei quartieri dell'Eur e San Lorenzo oppure a piazza Venezia dove gli interventi sono in fase conclusiva. A Roma abbiamo lavorato molto su questo anche grazie alla collaborazione del delegato all'accessibilità universale di Roma Capitale, Andrea Venuto. Vogliamo che la città sia sempre più a misura di cittadino, di ogni cittadino. Nessuno deve rimanere indietro e nessuno deve rimanere escluso. microfono Enrica Enrica il microfono Scusate, avevo il microfono spento, grazie. Allora dicevo ringrazio Virginia per questo suo contributo anche a nome di tutti i sindaci che ogni giorno lavorano sui territori con grande competenza e con grande impegno. Tutti i consiglieri comunali che hanno partecipato a questa iniziativa che stanno partecipando già da adesso, stanno presentando appunto queste emozioni in tutti i consigli comunali coordinate appunto da Marco Piazza. Voglio ringraziare Ruggero Quarto e Celeste D'Arrando che all'interno appunto delle più importanti istituzioni del nostro paese hanno deciso di assumersi questa importante responsabilità e come dicevano, sottolineavano che condivideranno con tutti i colleghi, con i gruppi parlamentari, con le associazioni in un percorso di costruzione collettiva di quella che è una bozza, un perimetro di partenza sul quale lavorare tutti insieme. Voglio ringraziare Andrea Venuto che con la sua esperienza e competenza e anche la disponibilità che ci ha dato per il successivo percorso ha arricchito tantissimo questa iniziativa. Voglio ringraziare Marco Piazza appunto come dicevo che è sempre disponibile nel coordinamento dei tanti consiglieri comunali che, lo dico un po' in conflitto di interessi perché essendo stata anche consigliera comunale, lavorano sempre con grande impegno e determinazione e voglio ringraziare Stefania Doronzo perché come dicevo ha acceso quella fiamma quel giorno lì a Barletta in un gruppo anche in cui ci siamo sentiti tutti in famiglia che ringrazio e questo piccolo gruppo quindi ha, come dire, si è dato una sfida importante, vuole coinvolgere le persone interessate a questo tema, tutti gli esperti, i cittadini, gli attivisti, le associazioni perché come è stato detto è una responsabilità di tutti, far sì che questa l'accessibilità universale sia quel avanzamento che mi è piaciuto tanto, valoriale e culturale di cui parlava Marco, di cui noi dobbiamo assumerci appunto questa, come ribadisco, responsabilità. Per quello voglio condividere anche un link che consente a tutti coloro che vogliano in qualche modo aderire a questo progetto, appunto partecipa appunto Blog delle Stelle e l'iniziativa lavoriamo insieme per l'accessibilità universale, tutte le persone che decideranno di aderire e quindi saranno coinvolte in questo percorso che parte oggi, giornata internazionale appunto delle persone con disabilità ma che si pone già al prossimo obiettivo, il prossimo 3 dicembre che sarà l'ulteriore giornata in cui non sarà solo una giornata per ricordare questo tema ma sarà una giornata per presentare le prossime azioni concrete e collettive che faremo in questo lungo anno di lavoro che ci aspetta. Quindi ringrazio tutti, vi auguro una buona giornata e sicuramente non ci fermiamo, è solo l'inizio e quindi verso quella che è per noi un obiettivo fondamentale, l'accessibilità universale, l'inclusione, come diceva Virginia Raggi, affinché nessuno sia escluso. Grazie a tutti e buona giornata. Ciao ragazzi. Grazie.